ciao a tutti e bentornati allora come promesso ci ritroviamo per i dovuti aggiornamenti in merito alle faccende che stiamo seguendo in questi giorni da chi partiamo partiamo dalla medium che nonostante l'annuncio di un allontanamento da youtube causa malattia sei ore dopo era già in live in live a sbraitare contro chiara d'alessandro senza anima e tutto il resto del mondo dei tempi di ripresa che hanno fatto impallidire pure lazzaro dice sì ma quali sono le novità che arrivano da soriano siti beh un attimo perché sono principalmente due la prima a fare body shaming a chiara postando un fermo immagine della sua mano paragonata a delle salsicce mentre la seconda novità è rappresentata da una breve live dove racconta che culogero offeso per i centesimi ricevuti in un guizzo d'orgoglio ha restituito il tutto dice ma ha restituito anche i 10 euro e i 7 euro ricevuti no no quelli se li è tenuti o quello è tecnico mica effesso però andando sulla page delle donazioni quelle da un centesimo sono ancora visibili perché perché stanno continuando ad arrivare ma spieghiamo bene la faccenda quindi batman e robin si sono diretti sulla page e non avendo dei nominativi reali cosa hanno fatto hanno raccolto i 20 centesimi quelli accompagnati dalle frasi ironiche e li hanno rispediti indietro tutti alla stessa persona perché era l'unica che compariva con un nome e un cognome reali la restituzione dei centesimi è stata accompagnata da una frase nata partorita dalla fantasia creativa del sorcalli che scrive valerio massimo eccoti centesimi inviati da monica sicuso da te massimo ed altri 18 utenti adesso ficcatevi tutti super super il buco uno ad uno il tutto accompagnato dalla risata ghignosa di gulogero dice tipo che tipo ora se in questo modo il sorcalogero crede di essersi lavato la faccia da quell'enorme figura di merda che stanno a fa beh direi che sta messo proprio male si due sono proprio imbarazzanti e chi dice il contrario mente bene e adesso cambiamo personaggio parliamo del nostro fiorellino milanese la quale si è ritrovata invischiata in una rissa e ci racconta tutto nel suo merda vidioso vlog che porta per titolo rissa sfiorata una ragazza voleva aggredirmi siete curiosi di sapere cos'è successo no ok il video inizia con i due piccioncini in auto diretti a sbrigare le loro vipissime commissioni lei parte con la storia del dimagrimento e a causa di ciò dovrà portare a restringere un bel po di roba discorso interessantissimo che noi schippiamo subito e poi il vlog riparte direttamente da casa dove lei finalmente affronta il discorso rissa bene adesso massima attenzione perché andiamo a quello che è stato questo racconto del terrore siete pronti no e chi se ne frega allora lei era in fila per arrivare in cassa una volta arrivata alla cassa dal cassiere e che cazzo troppesse in questo racconto vabbè fate finta di nulla allora cosa fa una volta arrivata lì dal cassiere la sua tesserina che le consente poi di ricevere uno sconto di 10 euro a fronte di una spesa di 1200 definirla un'offerta imperdibile sarebbe sicuramente riduttivo quindi sembrava tutto magnifico fino a quando il cassiere passando la tesserina le comunica che non ci sono punti sulla sua tesserina a quel punto chiara chiede spiegazioni e la cassiera inizia a parlare in cinese si consulta con i colleghi e poi le dice andale andale domani cali cali i punti poi alla cassa arriva la direttrice che le applica lo sconto tanto agognato di questi benedetti 10 euro e fin qui appariva tutto come meraviglioso però poi cosa è successo che la direttrice le strappa in due lo scontrino nel frattempo che si svolgeva tutto questo allegro siparetto una donna che era in fila dietro il nostro fiorellino milanese inizia a sbraitare come che come uno sessa e che dice dice ma basta perlona vai stai a fare un casino ma mettici un po di scotch a quello scontrino e vattene a fare ecco l'alterco si è concluso solo quando i commessi del negozio hanno trascinato fuori di peso questa donna ora facciamo un discorso serio tra di noi tanto qui non ci ascolta nessuno ma possibile che questi due ogni volta che mettono piede fuori casa sono sempre protagoni di risse e catastrofi naturali vi ricordate l'episodio all'outlet dolciario quando ci fu quell'energumeno che prese chiara e tutti i commessi li fece volare sugli scaffali dopodiché cercò di attaccare davide il quale furbescamente si era munito di un cestino di quelli in plastica e con quello si fece scudo una lotta fino all'ultimo bignè bene e questo è tutto in merito al nostro fiorellino milanese ma torniamo per un momento alla medium la quale in queste ultime ore sta subendo anche la rivolta di alcuni suoi utenti storici che proprio perché storici hanno ben presente il suo percorso youtubico uno dei primi a dissentire dalle continue richieste d'aiuto da parte della medium è stato no al branco che in un lungo post sul canale di lori lori scrive buon pomeriggio non ho visto lato live però una cosa vorrei dirla l'esperienza insegna che qui bisogna stare molto attenti a ciò che si dice a ciò che si racconta di personale a chi si racconta perché perché più che evidente che gli avvoltoi finti commiserevoli non aspettano altro per usarlo a modo loro e farti a merda purtroppo youtube è diventato una bretella del csm e l'unica cosa è non rispondere alle porcate barra offese e non nutrire i psicopatici che non aspettano altro per quanto riguarda le donazioni secondo me si è esagerato visto che ormai sembra ad essere su compas e non su youtube tutti in questo periodo storico abbiamo delle difficoltà ma è evidente che a molti non interessano i problemi degli altri perché perché cercano di risolvere i loro di problemi sicuramente non bisogna farsi meraviglia se qualcuno chiede aiuto ma purtroppo c'è chi ci marcia e quindi piange il giusto per il peccatore nessuno è obbligato ad aiutare chi può lo fa senza obbligo naturalmente ma come in ogni situazione bisogna avere un metro per non sbagliare se da maniera apre una raccolta che cazzo centriamo noi scritti perché attaccate noi se riesce a risolvere i suoi problemi bene viceversa amen risolverà diversamente ma lasciate in pace gli iscritti buona serata poi tra parentesi usare le disgrazie altrui e godere è da merde un'ultima cosa perché chi lascia un canale poi deve sparlare e raccontare cose che magari si sono confidati è da viscidi chiusa parentesi ora tralasciando il fatto che io leggo in una maniera meravigliosa beh questo è scontato è banale da dire però avete anche voi avuto sentore di un qualcosa di rivoluzionario che sta accadendo nel canale della dama gli utenti hanno smesso di donare perché perché loro in primi sanno da pagare e da risolvere quelle che sono delle situazioni le bag economiche che comunque rappresentano la quotidianità di tutti noi un epilogo che era inevitabile perché comunque era da folli pensare di poter arrivare alla pensione con questa modalità e cioè ad ogni arrivo di una spesa imprevista barra prevista si piazzava lì il link per le donazioni e si aspettava comodamente seduti sul divano o sulla sedia che gli utenti inviavano soldi qualcuno addirittura ironicamente detto che è stativa qui a fuori ad attacca a scale praticamente arrivata nello spazio perché davvero a tutti gli effetti sta storia delle donazioni ha passato di gran lunga il segno bene detto questo a me non resta che salutarvi augurarvi buona continuazione di giornata invitarvi a seguire quello che sarà il mio prossimo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da gossip grazie a tutti 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 grazie a tutti